Qual è la gengivite desquamativa? La gengivite desquamativa è una forma potenzialmente grave di malattie gengivali. I problemi si verificano quando gli strati di gomma iniziano a separarsi gli uni dagli altri, causando infiammazione e creando spazio per i batteri a prosperare. La condizione è più comunemente osservata nelle donne di mezza età e anziane spesso causa dolore, sensibilità e gonfiore che possono rendere difficile parlare e mangiare. La maggior parte dei casi di gengivite desquamativa può essere trattata con pratiche geniche coerenti e cura regolari presso lo studio o la clinica di un dentista. La causa esatta della gengivite desquamativa non è ben compresa, ma sembra che possano essere coinvolti diversi fattori. A differenza della maggior parte delle forme di gengivite, la varietà desquamativa non sembra essere il risultato di un'igiene orale particolarmente scarsa. Alcune persone sviluppano il problema nonostante la corretta spazzolatura, il filo interdentale e la cura generale della bocca. Una condizione legata all'ergia chiamata lichemplanus può causare erozioni cutanee, problemi agli occhi e lesioni orali sulle gengive che possono svilupparsi in gengivite desquamativa. Anche le condizioni genetiche congenite che influenzano il sistema immunitario sembrano precedere problemi gengivali in alcuni individui. I primi sintomi di gengivite desquamativa possono includere lieve gonfiore e arrossamento delle gengive superiori o inferiori. Nel corso del tempo, il gonfiore peggiore e le gengive iniziano a sanguinare dopo la spazzolatura. Possono diventare infuocati di rosso e molto teneri mentre gli strati di tessuto iniziano effettivamente a separarsi. Una persona può anche notare l'aspetto di piccole chiazze bianche nel mezzo delle gengive che si sfaldano facilmente quando vengono strofinate o spazzolate. Una volta che i batteri si seppelliscono all'interno del tessuto gengivale, il dolore costante, l'alito cattivo e le difficoltà di parlare e deglutire diventano i sintomi principali. Nella maggior parte dei casi, i dentisti possono facilmente diagnosticare la gengivite desquamativa semplicemente esaminando le gengive. Occasionalmente vengono raccolti campioni di tessuto di mucco e gomma per verificare la presenza di specifici batteri o funghi. Inoltre, un dentista di solito decide di prendere le radiografie della bocca per assicurarsi che ascessi o altri problemi alla radice del dente non si siano sviluppati. Il cardine del trattamento per la gengivite desquamativa è una corretta igiene orale. I pazienti sono istruiti a spazzolare, usare il filo interdentale e sciacquare quotidianamente, nonché fissare un appuntamento fisso per le pulizie dentali professionali. Quando vengono scoperti specifici batteri, possono essere prescritti antibiotici topici orali da assumere per due o quattro settimane. Se il gonfiore e l'infiammazione sono gravi dopo l'esame, il dentista può decidere di iniettare un corticosteroide direttamente nella parete della gengiva. I corticosteroidi bloccano temporaneamente la risposta del sistema immunitario ai batteri, che impedisce ulteriori irritazioni.